Il Messico ha autorizzato il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford in collaborazione con gli RBM di Pomezia per un utilizzo urgente nel paese. Secondo il Vice Ministro della Sanità, Hugo Lopez-Gatell, il Messico ha siglato un accordo con la multinazionale britannica per l'acquisto di 77,4 milioni di dosi di vaccino. L'autorizzazione per un uso urgente è stata approvata per quello di AstraZeneca, ha spiegato aggiungendo che il governo messicano ha ordinato 77,4 milioni di dosi di vaccino. A partire dal mese di marzo il vaccino di AstraZeneca dovrebbe essere operativo, ha aggiunto. Grazie a tutti.